il 3 Argo del Ronco, al 4 Bellini Griff, al 5 Big John LF, 6 Betterra S, al 7 Belcantopar, seconda fila per il 9 Barra Cudagar. Antonio Vitiello è il vincitore della prima prova, in questo caso Salen Salchi a Belcantopar. Dicevamo, ritirata Annabella, autostart che inizia la progressione. Perde un po' la partenza Bellini Griff, forse volutamente emerge Atena Gifont nei confronti di Aragonale, più a largo Betterra S, poi il 3 Argo del Ronco che precede Bellini Griff. 13 e 3 di lancio, posizioni che si vanno delineando, Atena Gifont a buon ritmo, dalle retrovie si fa vivo il numero 5 Big John LF che a larghe folate si presenta sui primi, 28 secchi il quarto iniziale, muove dalla terza posizione Betterra S che vuole prendere la scia di Big John, Big John LF raggiunge in testa la gara Atena Gifont, la costringe a tenere ritmo sollecito, 43 e mezzo i 600. Apparighiati Atena Gifont e Big John LF, poi Aragonale che precede Betterra S, e Bellini Griff, 58 e 3 gli 800, non accenna a diminuire il ritmo, i due apparighiati al completamento del chilometro, ultimato in 1, 12 e 9, si vola stasera a Dagnano, dalle retrovie si fa notare Barracuda gara anticipato da Bellini Griff, i due vanno su Betterra S che in terza posizione ma sono ancora distanti dai primi, tre quarti di miglia in 1, 27 e mezzo, Big John LF sta sottomettendo Atena Gifont, deve essere un po' guidato dal suo interprete Giuseppe Coppola, lo scatto di Betterra S, più a largo Bellini, retta d'arrivo, Big John in vantaggio, ci prova a Betterra S, poi Bellini a largo di tutti, Bellini prova all'aggancio ma anche lui deve essere guidato in punta di dita, Bellini Griff a centropista va su Betterra, l'attacca a fondo in prossimità del palo, Bellini Griff prende la meglio su Betterra S, Bellini Griff per la gioia di Carmine Nini Paudice, in prossimità del traguardo riesce a prendere la meglio su una generosissima Betterra S, veramente notevole stasera, mentre per il terzo perfettamente apparegliati Barracuda Garra a largo e Big John LF all'interno, media di 1,14 e 4 per il vincitore Bellini Griff da Irving Rivarco e Icran Ferm, Filippo Esposito precisissimo Insalchi e Giorgio D'Alessandro Senior al training.